Ma se portassimo sott'acqua un palloncino gonfio di gas, vedremmo subito che scendendo il suo volume si riduce. La variazione di volume del palloncino è inversamente proporzionale alla pressione assoluta. Ciò significa che se la pressione assoluta raddoppia, il volume del gas dimezza. Se la pressione assoluta triplica, il volume diventa un terzo, e così via. Grazie.